Nel laboratorio di scultura di Giuseppe Allegrucci in via vantaggi a Gubbio espone da sabato 15 dicembre per il periodo natalizio la pittrice Miriam Ferrucci, l'arte di uno scalpellino come ama definirsi Allegrucci caratterizzata dai suoi scorci della città medievale scolpiti nella pietra, incontra i colori e le forme di un'artista romana con i suoi volti ipnotici e i suoi sguardi intensi. Docente di arte e immagine Miriam Ferrucci ha maturato esperienze all'estero, in America Latina in particolare, approfondendo anche il campo dell'incisione. Numerose le sue personali e costante la sua maturazione artistica che la porta ad una pittura analitica più che iperrealista finalizzata alla ricerca interiore dei suoi soggetti. Le mie opere mirano proprio alla comunicazione con lo spettatore, deve avere un interlocutore e al di là del ritratto realistico e non è iperrealismo, è solo un modo di accentuare la realtà per far emergere l'aspetto interiore e mirano proprio a questo dialogo con colui che le osserva.